buonasera a tutti rieccoci con la nostra intervista pre partita come sempre abbiamo il nostro primo allenatore giorgio nibbio e questa volta sofia buiatti giorgio dopo la battuta di arresto di sabato cercheremo il riscatto contro riva del garda cosa ci dice sì cercheremo di fare una buona partita in casa incontriamo una squadra pari punti sicuramente dobbiamo fare una partita all'altezza dobbiamo giocare una partita di alto livello per portare via l'intera posta però si stanno allenando bene e ho buone buone sensazioni per sabato sofia che sensazioni hai per la partita di sabato ma sicuramente buone perché l'ambiente ha recuperato subito dalla sconfitta di sabato e poi perdere sicuramente non piace a nessuno quindi stiamo lavorando sicuramente per fare meglio e ogni partita è storia sempre ok ci vediamo sabato al palazzetto come sempre sulle nostre dirette facebook ciao